ultimi risultati classifiche ed immagini del 2012 domenica scorsa nella palestra ormondi sanremo per il campionato under 14 femminile la scuola di pallavolo mazzucchelli azzurra che vedete in maglia blu ha superato per 3 a 1 il volley team armataggia in maglia rossa questi gli altri risultati della quarta giornata maurina a mazzucchelli rosa 3 a 0 gazzera sanremo maurina b 3 a 0 golfo di diano san camillo 3 a 0 in classifica mazzucchelli azzurra 12 punti armataggia salis 20 miglia maurina 9 20 miglia e maurina con una partita in meno settore femminile campionati regionali serie c tattoo planet sanremo ha superato per 3 a 1 il quigliano e sale al quinto posto in classifica salis 20 miglia che ha osservato il suo turno di riposo resta l'ottavo posto serie di anfossi taggia andora 3 a 0 nuova lega pallavolo vbc savona 3 a 1 graglia gruppo maremola 3 a 0 in classifica taggia secondo posto graglia settimo nlp ottava settore maschile campionati regionali serie c grafiche sanremo olimpia volti 3 a 0 lavagna cariparma 3 a 2 in classifica cariparma sesto grafiche 7 serie d la pizzeria mediterraneo sanremo perde per 3 a 1 con il maremola e resta l'ottavo posto in classifica under 15 maschile albisola cariparma 3 a 0 golfo di diano voli team finale 3 a 0 sanremo volley nlp sabazia 3 a 0 la classifica dopo due giornate di anno ed albisola 6 punti cariparma e sanremo volley 3 io ho concluso e auguro a tutti gli amici di sport tv un felice anno e vi do appuntamento per venerdì 11 gennaio 2013